Ciao a tutti ragazzi, vi aspettiamo al PolitiCamp edizione 2017 a Reggio Emilia al Chiostro della Ghiara da venerdì 14 a domenica 16 luglio. Sarà come di consueto un appuntamento per fare il punto politico della nostra attività, della nostra proposta ma siamo anche in una situazione politica particolarmente complessa e da questo punto di vista vincente perché stiamo elaborando insieme il manifesto, quindi sarà l'occasione per trattare da vicino tanti temi che stanno a cuore a ognuno di noi, in particolare troverete me ai tavoli su immigrazione, asilo e seconde generazioni nella giornata di sabato, quindi appuntamento a Reggio Emilia e ci vediamo presto, un abbraccio.